buonasera scusa ti disturbo perché tra pochissimo iniziano i corsi e le lezioni e tu e io abbiamo praticamente il corso nello stesso periodo quasi negli stessi giorni e siccome tra storici e geografi naturalmente abbiamo questa linea privilegiata che ci accomuna volevo chiederti la globalizzazione sarà sicuramente uno dei temi centrali sia in qualche modo del tuo corso di storia che del mio corso di geografia ma volevo chiederti qual è l'approccio con cui da storica presenti il fenomeno agli studenti in maniera tale da cercare poi di regolarmi e insomma di trovare delle dei punti di convergenza da presentare magari in comune insomma visto che siamo proprio da da un'ora all'altra sì ciao giuseppe io si stavo preparando appunto qualche slide per il corso io tengo il corso di storia del mondo atlantico questo semestre e nel primo semestre invece tengo quello di storia dell'asia ed entrambi anche se da punti di vista diversi affrontano la questione della globalizzazione per quanto riguarda la ricorso di storia del mondo atlantico quello che mi interesserà un po' discutere illustrare agli studenti è un po' vedere quella che è la genesi della globalizzazione cioè come con la scoperta delle americhe sostanzialmente tecnicamente diventa possibile raggiungere in tempi ragionevoli tutte le terre abitate che sono in qualche modo interessanti per uno sfruttamento economico e quindi si pongono di fatto le premesse per la creazione di reti globali del commercio ai grandi scambi di carattere economico si accompagneranno anche scambi di carattere di carattere biologico e di carattere culturale e quindi vedremo insomma nel corso dell'età moderna in particolare quindi dal 400 fine 400 fino al 19 secolo quelli che sono gli sviluppi appunto della globalizzazione stavo dicendo non è magari qualche slide di quelle chiusi a lezione perché sicuramente l'approccio economico è fondamentale indubbiamente ma le rotte globali sono molto interessanti da questo punto di vista si posso condividere un file che si si quindi possiamo partire da questa immagine che sostanzialmente un po' ritrae quelle che sono le principali rotte del commercio a lungo raggio tra 1400 e 1800 ovviamente si includono le reti quelle più tradizionali le vie di comunicazione tradizionali che sono quelle che hanno a che vedere con la via della seta che quindi collegavano Pechino e Guansù il porto di Canton del sud della Cina fino all'Europa attraverso vie di terra ma anche diverse rotte marittime che collegavano appunto l'Asia orientale attraverso l'Asia centrale all'Europa oltre a queste vie tradizionali che insomma sono molto antiche vediamo lo strutturarsi di quelli che sono i commerci triangolari quindi le rotte commerciali che si strutturano attorno alla formazione dei grandi imperi coloniali spagnolo portoghese e britannico nell'Atlantico rotte che interessano ovviamente anche la l'Africa occidentale che avrà un ruolo fondamentale in questo tipo di di nuova economia perché fornirà diciamo soprattutto un materiale umano tristemente attraverso il appunto il fenomeno così importante della tratta transatlantica degli schiavi un fenomeno che tra 600 e diciamo dall'inizio del 600 fino alla metà dell'800 coinvolgerà si calcola circa 11 milioni di persone e ovviamente si possono si può andare anche un po più in in dettaglio mostrando anche come queste reti oltre appunto a aumentare enormemente il volume dei commerci e a generare un flusso anche uno scambio di carattere biologico attraverso grandi movimenti di massa di persone pur essendo ancora in una fase diciamo che precede le grande formarsi grandi fenomeni di massa abbiamo in questa fase come tratto tipico della modernità legata allo sviluppo delle grandi rotte grandi rotte atlantiche è un progressivo una progressiva finanziarizzazione dell'economia cioè l'economia attraverso la scoperta dei grandi giacimenti in particolare di argento nel nord del centro nord del messico e nell'attuale bolivia nel serro del potosi e questa scoperta questa questo fenomeno porterà alla una proprio a un progressivo distacco di quella che è l'economia finanziaria rispetto a quella più prettamente produttiva e questo è un fenomeno tipico della modernità che sarà riceverà proprio in virtù dell'immissione di metalli preziosi in seguito alla scoperta dell'america una notevole accelerazione ok questi quindi un fenomeno importante che vale la pena di essere sottolineato scusa katia mi sembra quasi che la parola accelerazione potrebbe essere una un vocabolo comune da da tener presente come come fila rouge forse ah certamente si è perché questo è un'epoca di notevole di notevole sviluppo e di accelerazione appunto di fenomeni su larga scala che ha effetti su aspetti molto diversi anche della vita delle persone e in società molto distanti tra di loro quindi nel tuo caso non so a cosa ti riferisca in particolare però immagino che senz'altro si possano trovare delle analogie dopo magari te ne accenno un attimo ma invece stiamo guardando questa carta che è davvero straordinaria perché cioè da da pensare quindi l'odierna globalizzazione in qualche modo affonda le proprie radici nel commercio degli schiavi il commercio degli schiavi è fondamentale perché ha a che fare appunto con uno scambio di carattere biologico ed è il primo grande flusso migratorio di massa che interessa diciamo l'emisfero occidentale ok che poi è una migrazione forzata insomma è già di suo un modello straordinario da studiare per quanto mette i brividi definirlo un modello di migrazione assolutamente un'emigrazione forzata che ha ricadute fondamentali anche dal punto di vista ovviamente culturale perché questo poi è tutto un aspetto che sarà interessante studiare quali sono gli sviluppi i segni i tratti della della presenza degli africani nelle americhe che segno lasciano qual è la loro impronta culturale possiamo dire no come modificano anche il loro stile di vita le loro abitudini le loro orizzonti culturali e anche la loro lingua per poter sopravvivere in un ambiente ostile e in condizioni del tutto inedite anche se non per tutti perché come scopriremo appunto quando si parla di schiavitù si parla di un fenomeno che in africa un fenomeno già ben conosciuto praticato e di fatto istituzionalizzato possiamo dire per quanto riguarda l'importanza economica degli schiavi anche questo è fondamentale a che vedere con lo sviluppo dell'economia di piantagione che è un altro fenomeno della modernità lo sviluppo del mercato globale basato sulla capacità di sfruttare maniera intensiva e iper specializzata dei territori per la produzione di un'unica merce attraverso il lavoro grazie però facendo due tirando due somme mi viene in mente il discorso che stavamo facendo l'altro giorno al consiglio di corso di laurea ti ricordi quando stavamo parlando delle guerre dell'oppio e del commercio internazionale delle droghe di qualche secolo dopo alla fine possiamo arrivare in qualche modo a studiare veramente in maniera storica la globalizzazione come fondata da prima sul commercio degli schiavi e successivamente sul commercio triangolare delle stupefacenti e tutto questo è un escato e condotto in maniera consapevole e funzionale dagli stati europei che stavano nascendo e si stavano affermando proprio in quegli anni sì sì assolutamente gli stupefacenti hanno un ruolo importante già in questa fase vediamo se troviamo questa è una diciamo una raffigurazione dell'epoca di quella che doveva essere la capacità di una sezione di una nave per il trasporto degli schiavi sì ah interessante questa slide lo mostra molto chiaramente ciò che avviene parallelamente parlando appunto di scambi biologici e nelle americhe in seguito al contatto sia con gli africani che soprattutto con gli europei il collasso demografico della popolazione dell'attuale america latina ma anche dell'america del nord agli odierni stati uniti e il canada questo è un codice cinquecentesco meso americano la popolazione che soffrirà di più in assoluto sarà appunto quella del meso america quello che è stato l'impero asteca perché era l'impero più popoloso quello maggiormente colpito da malattie alle quali la popolazione europea è diventata nei secoli immune malattie come il vaiolo il morbillo l'influenza e come si vede appunto in questo codice miniato e invece colpirà in maniera drammatica la popolazione indigena si calcola che nel nel corso del cinquecento la popolazione della dell'area meso americana diminuisca fino a ridursi al 3 per cento di quella originaria quindi parliamo di 20 milioni di persone falci di atte nel corso di meno di un secolo ecco a fronte di questo crollo demografico che destruttura anche l'economia locale abbiamo la ristrutturazione di un'economia moderna basata sull'estrazione di metalli preziosi per l'economia mondiale e sull'economia di piantagione questa novità soprattutto in area caraibica e nelle zone costiere più facilmente raggiungibile più miti diciamo dal punto di vista climatico dove impiegare appunto queste nuove forze questo nuovo questi nuovi apporti umani provenienti in particolare dalle coste dell'africa occidentale no questi sono i grandi movimenti che interesseranno appunto in maniera queste immagini rouge questi questo questo bellissima ma mette i brividi mette assolutamente e guarda questa successiva questo qui è un winter count che in qualche modo diciamo è una sorta di diario di calendario di resoconto che molte comunità indigene dell'attuale degli attuali stati uniti ma anche in canada confezionavano alla fine dell'anno e d'inverno raccontavano no attraverso queste immagini di solito raccontano appunto gli eventi principali nel corso dell'anno questo è un winter count che invece in qualche modo un resoconto di diversi anni in successione come vedi le epidemie sono ben rappresentate in alcuni anni come l'evento principale appunto di da ricordare insomma nella storia della comunità e anche qui appunto le rappresentazioni delle epidemie sono molto molto drammatiche e molto molto sì sì questa è una fonte originale del settecento è bellissima è splendida e mette i brividi anche questa ma come rappresentazione storica è davvero davvero straordinaria insomma normalmente erano erano sono appunto confezionate su pelli di animali e allo smithsonian si oggi si possono apprezzare in particolare allo smithsonian museum a washington ce ne sono di bellissimi e sono tra i documenti più originali più interessanti e anche più diffusi di quella che è diciamo quello che è il nord america indigeno insomma originario possiamo dire tornando agli stupefacenti in questa immagine puoi vedere come il rum insieme ai tessili ai panni prodotti attraverso appunto i telai e altri tipi di manifatture fossero tra le merci più importanti da scambiare con le elite africane per ottenere appunto schiavi poi da a loro volta essere rivenduti nelle americhe questo è l'essenza di quello che si chiamava il commercio triangolare gestito in particolare dal settecento sostanzialmente dalla gran bretagna che ottiene non il monopolio ma domina di fatto il dominio possiamo dire delle principali rute atlantiche del commercio transatlantico attraverso questo sistema e insomma questo sistema nutrirà alimenterà favorirà successivamente anche la rivoluzione industriale britannica perché fornirà cotone che è alla base di questo è sostanzialmente la merce principale su cui si basa appunto la rivoluzione industriale inglese lo sviluppo del tessile a basso costo e quindi parlavamo prima dell'accelerazione e mentre mi parlavi dell'accelerazione sono andato proprio a recuperare una delle delle slide che da qui partiremo proprio lunedì nel corso in geografia e guardate la faccio vedere così ci capiamo proprio immediatamente questo è quello che definivamo in buona sostanza come accelerazione è quella che deri d'arvey fin dagli anni 90 definisce la compressione spazio temporale quindi stante le nuove tecnologie di comunicazione dei dei mezzi di comunicazione e delle comunicazioni in buona sostanza è quello che viene definito come il mondo che si rimpicciolisce quindi dalla metà ancora alla fine del 1800 in buona sostanza le informazioni viaggiavano alla stessa velocità delle merci e se non vado errato forse dalla guerra di crimea da storica potrei sostenermi da quando c'è stato inventato il telegrafo in buona sostanza da lì in poi è iniziato ad avvenire una vera e propria compressione spazio temporale differente negli ambiti differenti e naturalmente le comunicazioni hanno subito un'accelerazione straordinaria che ci porta oggi con internet ad avere quasi l'ubiquità cioè quasi la possibilità di essere in ogni momento nel luogo dove accade qualche cosa che viene riportato dai media globali ma dall'altro lato oltre a questa ubiquità abbiamo anche un'accelerazione del degli spostamenti fisici guarda la carta della francia qua di fianco è secondo me molto esplicativa perché a seconda di dove arriva il tgv è una carta che riassume i consigli i confini della francia in base alle distanze non metriche ma in termini di tempo di spostamento quindi laddove arriva il tgv la francia è più stretta laddove invece il tgv fa fatica ad arrivare la francia è più difficile più lunga da percorrere quindi con le nuove tecnologie lilla è praticamente ad un'ora da parigi certo ecco con la l'innovazione tecnologica che permette all'informazione di viaggiare più velocemente questo ha avuto storicamente un risvolto fondamentale anche per quelli che sono i prezzi di fatto ha omologato i prezzi a livello mondiale perché era più facile era più immediato conoscere il prezzo dello stesso bene in luoghi diversi in tempo reale sostanzialmente era più facile potersi adeguare ai prezzi che venivano praticati altrove considerando poi il fatto che in virtù della rivoluzione dei trasporti grazie al treno ma anche soprattutto la navigazione a vapore anche il trasporto di merci da un luogo all'altro anche molto distanti tra di loro si riduce di molto e quindi i prezzi si possono omologare molto più velocemente di quanto non succedesse in passato quindi questa compressione spazio temporale provoca una dette decisiva integrazione dei mercati una maggior comunicazione tra i mercati quindi un maggior incontro tra domanda e offerta d'altro la dall'altro lato provoca che cosa provoca la diminuzione anche del costo dei trasporti di del trasporto di persone ed infatti nel corso dell'ottocento in virtù di queste innovazioni che assistiamo e al fenomeno delle dell'emigrazione di massa che interessa in nord europa le isole britanniche la germania la francia ma anche ovviamente l'europa latina mediterranea in particolare l'italia lo sappiamo e il cinema ce l'ha descritto molto bene l'epopea degli italiani negli stati uniti ma la gran parte buona parte più della metà forse degli italiani che attraverseranno l'oceano atlantico in quegli anni andrà nel sud dell'america dove si troveranno ad avere anche notevoli opportunità di di crescita pensa che nel 1911 nella sola buenos aires sbarcano ben 900 mila italiani grazie al vapore e quindi abbiamo con questo fenomeno che porterà sostanzialmente nel corso di un secolo tra il 1876 al 1976 ben 26 milioni di italiani a lasciare la loro la loro terra non necessariamente in maniera definitiva proprio grazie a questa facilitazione nello spostarsi addirittura l'emigrazione italiana in argentina è interessante perché abbiamo il fenomeno delle golondrinas era addirittura possibile emigrare stagionalmente per esempio dalla campania approfittando della l'inversione delle stagioni in argentina rispetto all'italia per andare a di fatto a mettere il grano comunque a impiegarsi nei lavori agricoli della pampa durante quello che era sostanzialmente l'inverno italiano per poi restituirsi pagando relativamente poco il biglietto alle proprie case insomma abbiamo già nell'ottocento un fenomeno così complesso insomma per quel che riguarda un'emigrazione di così lungo contagio ecco e per molti aspetti anche così simile e così diverso dal fenomeno indierno perché da un lato si trattava di migrazioni permanenti o temporane di famiglie o di individui comunque in stato di privazione in linea di massima e c'era comunque l'opportunità di spostarsi e di farlo in maniera legittima e supportata mentre invece oggi un secolo dopo la globalizzazione a suo modo restringe la mobilità solo ed esclusivamente a chi se la può permettere e potersela permettere non vuol dire solo potersela permettere da un punto di vista economico ma a monte ancora più importante da un punto di vista fra virgolette del cosiddetto diritto. Però pensa che anche l'emigrazione ottocentesca ha le sue tragedie non sono molto conosciute perché la cronaca appunto ci racconta di ben altre tragedie odierne ormai ma pensa che le cosiddette golondrina cioè appunto le rondini questi emigranti che andavano a fare i braccianti per una stagione per risparmiare il più possibile il denaro per poter tornare a casa e offrirlo alle loro famiglie non compravano neanche un cappello per coprirsi la testa e ci sono molti casi di morti per insolazione perché pur di non spendere il poco denaro a disposizione non avevano cura ovviamente della loro salute e poi c'era un problema gravissimo era quello della mancanza di informazione di persone molto spesso ignoranti analfabete che non sapevano dove venivano portate e ci sono casi tragici di persone di con di famiglie di contadini che avevano venduto tutto tutti i loro pochi averi pur di comprarsi una un biglietto per andare in argentina o in brasile e ritrovarsi in sicilia oppure persone che hanno fatto il giro della sicilia pensando di essere sbarcati in brasile ecco truffe di questo genere sono numerose sia in italia sia nelle nei luoghi di destinazione e insomma sono tragedie che costellano la storia dell'emigrazione in tutte le epoche direi bene molto molto interessante io credo che riusciremo a trovare sicuramente un affiatamento ci sono tanti diversi discorsi in comune da approfondire sono sicuro che riusciremo a coinvolgere gli studenti e magari anche a trovare qualche qualche tematica da portare avanti in maniera uniforme fra un orario e l'altro assolutamente sarebbe interessante approfondire la questione delle guerre dell'oppio degli stupefacenti che fra le altre cose un tema che di solito attira molto l'attenzione proprio perché c'è una totale mancanza di informazioni esatto è paradossale ma il consumo di stupefacenti è uno dei fenomeni in assoluto più diffusi ed anche più globali se che c'è una statistica dell'istat che dice in buona sostanza che il 30 per cento degli italiani fra i 15 e 65 anni ha consumato stupefacenti leggeri di tipo spinello durante la sua vita il che fa 20 milioni di consumatori e però c'è una totale mancanza di informazione anche a livello qua siamo nel pieno proprio se vogliamo del del glocal cioè del globale e del locale assolutamente varrà la pena approfondire queste questioni magari facendo anche una lezione incrociata partecipando l'uno alla lezione dell'altra vedremo come organizzarci senti ti ringrazio tantissimo per queste questa condivisione intanto è stato davvero piacevole ci vediamo lunedì in classe allora grazie a te giuseppe buon lavoro abbraccio katia ciao anche a te ciao ciao